buongiorno carlo martini semistrani.it oggi vi faccio vedere una novità per il 2023 per semistrani che è il diavolicchio eh sì buonasera il ciupetigno black guardate che bellezza vedete fa questi frutti quasi neri viola scuro per poi a maturazione diventare come questi che diciamo tendano come definiresti questo colore un viola bordeaux vinaccia molto bello raccolta molto covioso come vedete la pianta cresce bene come tutti i violacei probabilmente ha a che fare con il pimenta d'anneide guardate bello il fiore di qua bianco con le ombre viola e dietro invece proprio viola fighissimo la pianta sviluppa più degli altri degli altri ciupetigno per l'appunto ricorda un po la pianta del pimenta d'anneide ed ecco qua ciupetigno black semistrani.it